Ristorante Pizzeria Braceria Micale, anche da asporto, via Valdiforo 116 Villamagna. Fisioterapia Rosati, da oltre 20 anni al servizio di salute e benessere. Fisioterapia, osteopatia e riabilitazione sportiva. Paolo Bucciarelli, consulente finanziario, la gestione patrimoniale competente. Serimont, serigrafia, ricamo, stampa digitale, abbigliamento, via Santa Eufemia 211, fara Figliorumpetri. Ciavalini, dal 1902. La Faresina è una delle società calcistiche abruzzesi ad aver assaporato di meno il periodo di riposo che intercorre tra una stagione sportiva e quella successiva. Si tratta di un piacevole tour de force, visto che il maggior numero di gare disputate rispetto alla concorrenza è valsa la promozione in prima categoria, un torneo che la truppa del presidente Di Federico torna a disputare dopo un periodo di assenza, ma anche con una diversa compagine sociale. I Faresi, dopo il disciollimento della precedente società, sono ripartiti da zero e in poco tempo sono stati in grado di risalire la china e tornare a respirare un palcoscenico già ampiamente collaudato nel recente passato, anche se stavolta la partecipazione al Girone B rappresenta forse una primizia assoluta. Lo stesso Girone che invece abbandona il Casalin Contrada, avversario di turno nella gara di ritorno della Coppa Abruzzo, che i Faresi cercano di archiviare dopo il rotondo successo esterno della scorsa settimana. Anche la società gialloblu presenta diverse novità, a cominciare dal neopresidente Di Giovanni per proseguire con il nuovo tecnico Marcangeli, guida tecnica indigena al contrario per la Faresina con il ritorno in patria di mister Mancini, reduce dalla lunga esperienza pedemontana con i cugini del pretoro. Il primo affondo significativo della contesa è appannaggio dei padroni di casa, con il bomber rapino che ruba il tempo a Paolini e cerca di sorprendere l'estremo avversario con un palonetto dal vertice d'area che Carducci addomestica con imprevista difficoltà. Sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina di Di Fulvio, l'avanzato Di Federico svetta con tempismo ma viene fermato dal legno traverso. Pochi istanti dopo è lo stesso Di Fulvio a tentare la sortita in prima persona, ma il suo velenoso diagonale dal vertice d'area viene sventato dalla providenziale chiusura di Carducci a ridosso del primo palo. Il Casalin Contrada, rimasto inizialmente sulla difensiva, si affaccia timidamente dalle parti di Di Prinzio, che al dodicesimo non ha nessun problema ad intercettare il rasoterra dalla distanza di Zuccarini. Sono decisamente più insidiose le incursioni successive della squadra di casa, che prima dell'intervallo insida la porta avversaria, dapprima con il gran siluro dalla distanza di Di Fulvio e successivamente con il temibile diagonale del neoentrato Liberati. In entrambi i casi Carducci si rivela providenziale e consente ai suoi di arrivare all'intervallo senza danni. Il risultato di parità non è comunque bene augurante per i casalesi, largamente soccombenti nella gara d'andata, che hanno bisogno di un mezzo miracolo per sovvertire i destini nel tempo ancora a disposizione, ma i buoni propositi giallo-blu vanno a scontrarsi con le ambizioni della squadra di casa, che ci tiene a fare bella figura anche davanti al proprio pubblico. Il primo a fondo è Di Rapino, che va a chiudere lo scambio con Liberati, ma calcia debolmente verso la porta di Carducci, che domestica la sfera in due tempi. Bisogna attendere il diciannovesimo per tornare a vedere una buona trama offensiva della compagine farese, che ci prova stavolta con Quassi, il quale cerca fortuna dalla distanza senza trovarla. La gara si sblocca il ventiduesimo per merito di D'Angelo, che infila Carducci sul palo più lontano, grazie ad un perfido piazzato da posizione defilata. Il discorso qualificazione va definitivamente in archivio pochi minuti dopo, quando un nuovo piazzato, stavolta eseguito da Rapino ma da posizione più centrale, va a terminare la sua corsa alle spalle del malcapitato Carducci a ridosso dell'incrocio dei pali. L'esultanza del bomber farese un po' troppo esuberante induce mister Mancini a richiamarlo subito in panchina, per evitare l'inasprimento degli animi in campo. Il Casalincontrada cerca di riemergere per lasciare l'impianto farese a testa alta e insidia la porta del seminoperoso di Prinzio con l'incursione dell'esperto rincione. Palasfera termina docilmente tra i riantoni dell'estremo difensore Biancazzurro, che rischia grosso al trentunesimo, anche se al suo svarione se ne aggiungono altri, equamente distribuiti tra compagni e avversari, per una trama di gioco degna della migliore gialappas. La giornata casalese dall'epilogo evidentemente infruttuoso si ravviva al trentacinquesimo grazie alla realizzazione di rincione, il quale va ad alleviare la sconfitta con un diagonale da distanza propizia che sorprende la retroguardia farese. Il risultato rimarrà immutato fino al triplice fischio, ma le annotazioni di cronaca raccontano di un paio di occasioni equamente distribuite. Al quarantunesimo il neoentrato Frattaroli viene fermato dal direttore di gara, che ravvisa una posizione irregolare del numero 20 di casa. Tre minuti dopo il casalincontrata parigia il conto dei legni con Paolucci, ma non il risultato finale, che rimane favorevole alla Faresina, vincitrice nel doppio confronto e promossa al turno successivo di Coppa Abruzzo. Domenica prossima arriva il campionato con buone impressioni e discrete aspettative da parte di entrambe le contendenti odierne. Mister Aldo Mancini, prima casalinga della Faresina in Coppa Abruzzo e prima gara davanti al pubblico amico per un tecnico farese d'occhi che torna nella sua patria, possiamo dire, quindi una vittoria che vale doppio. Sì, sì, ci tenevo oggi a fare bene perché dopo cinque anni di assenza ho avuto la possibilità che mi ha concesso la società di allenare la squadra di Fara. La squadra ha risposto bene, nonostante la condizione fisica precaria, in quanto abbiamo lavorato tanto durante la fase di preparazione. Era una prova, una prova importante in vista della prima di campionato di Domenica a Perano. Però siamo tutti soddisfatti soprattutto dell'impegno profuso e della prestazione. Poi il risultato, insomma, trattandosi di Coppa, passa in secondo piano. Quali sono gli aspetti positivi e quali quelli negativi da affinare in futuro? Allora, la squadra ha dei valori tecnici importanti, però è complicato poi esprimerli in campo, in un campo stretto come il nostro. Ci dovremmo lavorare per velocizzare un po' la manovra. Però, insomma, le note positive sono che il gruppo è disponibile a cultura calcistica, è disponibile al sacrificio e sicuramente faremo bene. Soddisfatto della campagna acquisti? Sì, 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 pienamente soddisfatto. Siamo tornati di Fara, che eravamo fuori, in cinque. Il presidente è riuscito a puntellare una rosa già buona e quindi, insomma, l'obiettivo è quello di una salvezza tranquilla, ma sicuramente ci toglieremo qualche soddisfazione in più. E Casalincontrata? Casalincontrata è una buona squadra, partita forse con un attimo di ritardo, ma sono riusciti comunque ad allestire una squadra buona a livello tecnico. Forse Zione C li favorisce come tipologia di squadra e sicuramente faranno bene anche loro. Presidente di Federico, si ricomincia per una nuova stagione, da matricola, ma fino a un certo punto, perché la Faresina, come abbiamo detto anche in passato, conosce bene il campionato di prima categoria, avendo una storia alle spalle. Voi forse eravate troppo giovani, ma comunque eravate presenti negli anni di prima categoria, quindi si torna a disputare questo torneo con grande entusiasmo, una squadra rinnovata che già ha conquistato due vittorie su due, quindi se il buongiorno si vede dal mattino. Buongiorno, speriamo che si vede dal mattino. Noi, come hai detto ben tu, siamo una matricola, quindi non dobbiamo fare altro che salvarci. Noi continuiamo a portare avanti il nostro progetto iniziato ormai quattro anni fa, quello di portare più ragazzi possibili farese a giocare a Fara. Ci siamo ormai riusciti al 99%, ne manca solo uno, quindi questo era l'obiettivo principe che abbiamo realizzato. Poi sicuramente siamo tornati in prima categoria, sia io che Andrea, gli altri fondatori, Piero, facciamo parte anche di quella squadra, siamo tornati nel campionato che noi pensavamo fosse più consono a questo paese. Adesso dobbiamo rimanerci e pensare a divertirci come stiamo facendo. Un girone B che voi non conoscete, avendo fatto più che altro il girone C nel passato, però c'è l'occasione gustosa di un derby in famiglia con il socio Giacomo Piccirigli e con la Dinamo Rocca Spinalveti. Sì, forse conosco più squadre della zona di Giacomo che non le squadre del Pescarese. abbiamo due derby importanti come Rapino e Pretoro e poi il derby con Giacomo. Il fato ha voluto che sia l'ultima giornata, spero che non serva a nessuno, insomma, per salvarsi, per gustarci quella partita in tranquillità. Il ministro è soddisfatto dell'organico, si torna ad avere una squadra molto farese, nello spirito ma anche nell'anagrafe, perché molti sono originari proprio del vostro paese. Sì, diciamo che su 24 ragazzi ne abbiamo 18-19 di Fara, quindi sono praticamente tutti locali. Il nostro motto è stato sempre quello di far giocare i ragazzi di Fara e poi puntellare con dei ragazzi magari di valore tecnico superiore, con ragazzi forestieri. In quest'anno abbiamo solamente Pasquale Rapino, Mirko Marrone in pratica, Jonathan Skocek e Enrico Liberati. Ne abbiamo 5 o 6 solo di forestieri, chiamiamoli così, anche se ormai sia Pasquale che Mirko sono parte integrante del gruppo storico farese. Quindi penso che potremo salvarci tranquillamente e divertirci. Quali sono le favorite di questo Girone B secondo te? Dai nomi che, anche se non li conosco tutti, penso che insomma Mariotano e Piazzano debbano essere in teoria dei favoriti. Poi il Rapino ha ambizioni di vincere. Diciamo che secondo me queste tre saranno quelle che se lo giocheranno fino alla fine. Abbiamo Patrizio D'Alessandro del Casale Incontrata ai nostri microfoni, uno dei più esperti della squadra, una squadra rinnovata sia a livello di organico che di società. Un Girone C che tornate a discutere dopo la parentesi strana, dobbiamo dire, dell'anno scorso, dove forse non vi siete trovati molto a vostro agio. E quindi ci sono buone premesse per fare bene, nonostante, come si diceva con il Presidente di Federico, avete iniziato un po' in ritardo rispetto alle altre e la preparazione, ma abbiamo visto una buona prova, soprattutto nel finale oggi, qui a Fara. Sì, è vero che siamo partiti un po' in ritardo, con un po' di problemi, poi fortunatamente siamo riusciti a creare una buona squadra. C'è tanto da lavorare perché il mister è nuovo, giocatori nuovi e dobbiamo lavorare per conoscerci meglio, per capire un po' anche quello che ci chiede il mister, ma le premesse ci sono tutte. Una squadra rivoluzionata, abbiamo detto, quali sono i punti di forza, secondo te? Allora, io penso che comunque un reale punto di forza, non c'è, diciamo, un ruolo, penso che siamo bene in tutti i ruoli. Il punto di forza è sicuramente la società, l'impianto sportivo, il campo, il mister, che veramente non conoscevo, ma è veramente un grande mister, dobbiamo seguirlo e i risultati arriveranno sicuramente, come ho detto prima. Che impressioni hai avuto invece da questa Faresina? Beh, la Faresina è buona squadra, ogni anno l'Estation è buona squadra, anni passati ci siamo scontrati in altri campionati e comunque è sempre un avversario ostico, venire a giocare qua è sempre dura. Buona squadra, la Faresina è veramente una buona squadra. Poi il mister Mancini, un grande amico, gli faccio un grosso in bocca al lupo.